bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi siamo di piena regola entrati nelle sfide della settimana numero 9 quelle di mida in poche parole c'è una sfida molto curiosa che vi voglio far vedere come risolvere che è quella che ci chiede di trasportare un enorme orso rosa ed è una roba incredibile per 100 metri quindi niente di difficile giustamente ci chiediamo dov'è l'orso rosa beh ragazzi è facilissimo basta raggiungere rapide rischiose come vedete prima dell'agenzia e guardate un po ce ne sono ben quattro di orsi rosa ragazzi gli orsi sono questi che vedete basta solo che ne prendete uno con il tasto per trasportare probabilmente i vostri compagni di squadra lo recuperate ve lo portate in giro per 100 metri e molto tranquillamente vi fate la vostra missione quindi niente di difficile io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi ai miei canali e mi trovate a me in live proprio adesso su twitch ciao